Entro due anni il sistema depurativo delle acque refue di Pescara, San Giovanni Tiatino e Sfoltore migliorerà grazie al potenziamento del depuratore di via Raiale a Pescara e al nuovo impianto che sarà realizzato a pochi metri da quello già esistente. I lavori sono ripartiti e saranno ultimati nel 2023, al termine dei quali la capacità di depurazione sarà quadruplicata e sarà possibile far fronte ai problemi di inquinamento del fiume e del mare a causa dei quali Pescara si è trovata a fare i conti con i divieti di bagnazione, ha detto la presidente dell'ACA Giovanna Brandelli, illustrando gli interventi alla stampa insieme al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Quali interventi verranno effettuati? Gli interventi sono articolati in due stralci, c'è un potenziamento della capacità di depurazione di questo impianto. Le difficoltà degli impianti di depurazione sono rappresentate dal fatto che questo impianto non può essere chiuso, ristrutturato e poi riaperto. Questo impianto deve continuare a lavorare, a servire l'Interland pescarese, a depurare 75.000 metri cubi al giorno e contemporaneamente devono essere fatti i lavori di ampliamento. I lavori di ampliamento sono sia la realizzazione di una nuova vasca di ossidazione, sia un pretrattamento di disinfezione sia ci sono collateralmente le opere già in parte appaltate per la realizzazione del parco depurativo. Entrambe queste due grandi opere, una da 10 e una da 16 milioni di euro, devono risolvere il problema strutturale delle reti fognarie di Pescara, si tratta di reti miste. Quindi noi siamo assolutamente in grado di trattare reflui civili in condizioni ordinarie, però nel momento in cui ci sono degli eventi di pioggia il depuratore si trova sotto sforzo, cioè con un picco di acqua in ingresso che deve essere accantonata e poi laminata e trattata nel depuratore. Il lavoro che si sta facendo in questo momento è il potenziamento del pretrattamento con l'unità di ultrafiltrazione per un pretrattamento di una maggiore quantità di acqua. Questi lavori erano bloccati da tre anni di contenziosi con la ditta che il management del lago e la struttura tecnologica hanno risolto anche grazie all'aiuto della regione Ambruzzo. Risultato 2023, depuratore opere finite, depuratore potenziato, maggiore capacità, migliore qualità della depurazione e piena balneabilità del nostro mare, che credo sia la risorsa ambientale più preziosa che noi abbiamo e che dobbiamo tutelare in ogni modo e così lo faremo.